Mi filmo il foglio quando ci finirei? Sì, eh! Una fotografia ritagliata da un giornale incollata su un piccolo foglio. Tordata con due tratti di pennarello rosso, da sinistra un uomo con la fronte, alta e i capelli neri lunghi fino alle spalle, dentinati all'imietro. Maglietta nera, orologio di acciaio al colso, sinistro occhi che ridono, soffia dentro una tromba rivolta verso il fotografo. Alle sue spalle un uomo biondo, fronte alta, corri porto a sinistra, suona il corno e guarda alla sua sinistra accanto all'un signore, con gli occhiali e i capelli neri normali. Maglietta nipolo, orologio. Grazie. Grazie per la visione! Grazie a tutti.